ciao a tutti ragazzi sono shark e bentornati in un nuovo episodio in minecraft ciao anche da steve che è felicissimo di vedervi non perdiamo tempo e andiamo subito all'azione allora ragazzi pensavo 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 di intanto sistemiamo l'orto intanto quello poi nel frammento tempo stavo pensando di cominciare a realizzare un mob spawner perchè io ancora l'altra volta ho fallito la missione infatti non sono riuscito a costruire un mob spawner funzionante adesso ci voglio riprovare quindi ragazzi niente faremo un mob spawner e speriamo che stavolta vada meglio dai su pirletta intanto ragazzi come state come state ditemelo come state io sto con questa te va bene basta questa basta battute ragazzi basta basta ve lo prometto non faccio più battute allora intanto abbiamo un sacco di fieno ovviamente ragazzi ovviamente ragazzi a breve rifaremo la ehm la farmia automatica di grano avremo molto più funzionante via per ora ci si accontenta di averlo passare il convento eh dai 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 scusatemi se sentite il mouse ma do dei click do dei click abbastanza forti bene altri 14 semi ci serve da pensare anche ragazzi alle canne a zucchero ho intenzione di fare una farmia automatica e insomma ce n'è di cose da fare ce n'è si sono nella direzione giusta pirla che se no mi sono dimenticato laccette torno subito eccomi qua ho craftato quello che ci serviva forse ho fatto un po' troppe asce però non importa tanto le asce non non sono mai abbastanza ok cominciamo buttando giù un po' di alberi quello non è un albero maledizione è un creeper oh non scoppiare che ti stroppio mannaggia a te creeper del cavolo contiamo con la razza degli alberi spero di farcela stavolta con mob spawner eh ragazzi spero di non fare un altro fail questo video verrà diviso in due parti io intanto scioppo un po' di alberi perché ci serviranno ok ok gli alberi li abbiamo battuti facciamo un po' di piazza pulita ora buttiamo giù un'altra lava un'altra ancora dai ok allora ci serve un secchio di lava andiamo alla pozza di lava dai 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 su 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 andiamo a prenderci la lava ok ora andiamo via via il macchinaio direi di farlo ma si lo facciamo qua ragazzi questo è un macchinaio semplice che ci serve che sarà molto utile per la nostra farm allora aspettate un secondo ok ci siamo scusate mi si era attorcigliato il filo delle cuffie ok perfetto perfetto così vediamo un po' allora qui ci sarà la nostra qua ci sarà la nostra farm la idea di macchinaio di farlo qua per non avere il ruotore di scatola e e e e e e e e c e c e e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti